E' inutile che spirci, non puoi dubbiare. Francesco, non puoi dubbiare. Ho chiesto a fare. Bello! Vieni a chiamare Alex. Sì. Ma tu hai dato pure a presto. mi prometti che mi aspetta qui? mi prometti che mi aspetta qui? io vado a vedere cosa fare mi prometti che mi aspetta qui? mi aspetta qui? mi aspetta qui? mi prometti? mi prometti? ok, grazie grazie, ciao siamo lo sponsor tecnico dell'IPMAS facciamo vedere un secondo? ti parto